Nei giorni scorsi il Comune di Masse e l'Unione dei Comuni hanno presentato pubblicamente gli interventi di somma urgenza ad attuare in tutta la zona del Candia. Una relazione quasi incomprensibile a dei cittadini che non conoscono la materia ma che hanno comunque capito che dei cantieri saranno aperti. I rappresentanti dei vari comitati pro alluvionati hanno invece reclamato l'assenza dell'amministrazione provinciale, non hanno mai avuto contatti e non sanno se e quali siano i progetti in programma ma la provincia dei progetti li ha e sono già stati approvati per non perdere i finanziamenti regionali. Si tratta di opere di ripristino in tutto il territorio apuano, otto in totale per quasi 5 milioni e mezzo di euro. Il più sostanzioso da 4 milioni di euro è quello relativo al canal magro nel Comune di Massa e l'unico ancora da approvare. Si tratterebbe di adeguare le casse di espansione esistenti, ripristinare gli argini e sistemare il tratto terminale a seguito delle esondazioni. Altri quattro interventi, oltre a questo, saranno eseguiti sulla costa. Uno a Carrara, 100 mila euro per il ripristino del muro crollato sul Carione, gli altri a Massa. La provincia interverrà sugli argini del torrente Ricortola, tra via Pietrasanta e via Silcia, 400 mila euro. 180 mila euro sono destinati alla messa in sicurezza del versante Bergeo la Lavacchio e altri 300 mila serviranno al ripristino delle strade provinciali a Monte. Sono pronti due progetti su Fivizzano per un totale di 190 mila euro. Anche in questo caso si tratta di ristabilire la viabilità in località a Soliera Cesarano e a Darlia. Infine, cantieri aperti per la viabilità a Bagnone, stanziati 250 mila euro per la messa in sicurezza delle scarpate lungo la provinciale 22 di Collesino e assicurare il collegamento stradale ad oggi interrotto tra la località Tavernelle e l'abitato di Bagnone.